Tutti salvi 219 lavoratori della OMA, l'azienda che nei siti pescaresi di Castiglione a Casauri e Tocco da Casauri e in quelli toscani di Firenze e Massacarrara produce impianti metalmeccanici e si occupa di manutenzione degli stessi. La vertenza, iniziata nel 2019 con l'avvio della procedura fallimentare, si è chiusa positivamente due giorni fa, dopo due mesi di trattative che hanno portato all'acquisizione di OMA da parte dell'azienda Laer, attraverso un accordo sottoscritto da CGL Cisle Will. Pienamente soddisfatti i sindacati, che esultano per i 219 lavoratori finalmente salvi dopo tre anni di tribolazioni, come spiega Alessandra Tersigni, segretaria della FIOM CGL della provincia di Pescara. Sicuramente possiamo dire che siamo orgogliosi del risultato ottenuto. La OMA è stata dichiarata fallita ad ottobre 2019 e abbiamo avuto quasi tre anni di esercizio provvisorio, un esercizio provvisorio un po' strano perché in realtà ha sempre garantito salario e occupazione, però fino a quando non c'era un nuovo acquirente le asti andavano a deserte e noi una realtà così importante di professionalità e competenze non volevamo perderla. Ricordiamo che la OMA ha come maggior committente la nuova Pignone, che in questa fase di transizione energetica è un po' un'eccellenza a livello nazionale. Quindi le commesse c'erano ma non c'era nessun acquirente. Si è arrivato un acquirente da Benevento, la Lair, un'azienda interessata all'aerospace, ma lascerà il settore di mercato esistente. Ma la cosa più importante è il risultato sindacale perché noi siamo arrivati a siglare un accordo che preserverà l'occupazione. Quindi tutti i 219 posti di lavoro saranno salvati, tutti i diritti sono rimasti intoccabili perché i trattamenti retributivi ed economici, l'ansanità di servizio, l'inquadramento contrattuale e la sede di lavoro rimarranno i medesimi. Esulta anche Dorato Di Camillo, segretario della FIMCISL della provincia di Pescara, per il lieto fine di un'avvertenza per nulla scontata. Un grosso esultato, una grande vittoria perché in un paese così complicato e difficile per l'ennesima volta i lavoratori rispondono attraverso i loro sacrifici, attraverso l'aiuto del territorio, perché dobbiamo ringraziare pure il Tribunale di Pescara, attraverso il commissario Costantini che ci ha dato una mano. Si sono uniti tutti quanti in questa vertenza a darci forza e oggi attraverso un percorso che ci ha visti proionisti nei mesi e negli anni siamo riusciti finalmente a dare dignità a 219 famiglie che da oggi hanno un futuro un po' più rosio.